Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qua sul canale di Battle for Games, io sono Carlo, oggi ragazzi siamo tornati su Battlefield 3, incredibile ragazzi, siamo su Battlefield 3 perchè ho detto oggi voglio registrare un video, su cosa registriamo? Ho detto facciamo un video su Destiny, allora cosa ho fatto? Beh ho acceso la play, ho messo dentro il disco di Destiny e cosa mi è venuto fuori? Un aggiornamento di ben 18, fututissimi giga ragazzi, quindi ho detto no, mi sa che oggi Destiny non lo registriamo Quindi siamo su Battlefield 3, è un gioco che a suo tempo quando ci giocavo veramente mi piaceva veramente un sacco, ci ho giocato per ore e ore e ore ragazzi a questo gioco Siamo su canali di Norshar, su Fanatico, quindi sarà un po' un problema, sarà un macello perchè ci sarà da smadonnare perchè con 3 colpi come avete appena visto si uccide Sto utilizzando l'M416, a di verità la seconda volta che registro questo video perchè prima avevo intenzione di fare un video con l'SV98 con il mirino Cobra Però ho notato nel video precedente che le mie qualità da cecchino anche su Battlefield 3 non esistono più, quindi ho detto no, aspetta che beh Magari prima di beccarmi 200 non mi piace solo perchè faccio cagare, ho detto magari utilizziamo un'arma diversa diciamo così Allora oggi ragazzi siamo con l'M416 con un classicissimo mirino reflex e basta penso, forse c'è la canna pesante Questi sono i riflessi invece, almeno qua i riflessi ce li ho, questo qui era un salterino che salterellava per la mappa come ID Vabbè, allora speriamo che non ci siano troppi camper, ma era un nemico questo qua che c'era? Ah no, si è glitchato dentro il container questo qua perchè non lo vedevo più E niente ragazzi, questo qui è un gameplay classicissimo su Deathplash a squadra e a Fanatico, siamo in 32 giocatori infatti non c'è né granata Troppo casino né troppo poco, però mi sa che ce n'è giusto il... no, questo non l'ho visto porca troia C'è il casino giusto e ovviamente mi suona il telefono, ma perchè raga? Ma io non lo so, è una cosa normalissima questa ormai Mi suona il telefono mentre faccio i video, qua ce n'è uno qua dietro, ce n'è uno qua dietro, non so dove sia, eccolo, no Sì, e invece sì, e invece sì, no, era vivo, pensavo fosse morto quel tizio che mi ha ucciso Vabbè, comunque, comunque, ma mi hanno anche rianimato, molto gentile, eccolo, l'ho visto, l'ho visto, è morto, è morto È morto signore, è morto, ok va bene, basta Aia, mi ha fatto male questo, però io sono un cretino perchè ho il kit medico Se non lo utilizzo, almeno qui, posso anche rianimare le persone, è vero E qua non c'è da smadonnare come in Battlefield 4, vero, carica, 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 ti devi metterli un quarto d'ora prima di riuscire a rianimare una persona Qua gli dai un colpo secco e rianimi tutti al 100% di vita Questo, ah, c'ha pensato lui, eccolo, no, 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 regà, no, regà Allora, almeno con questa arma buggata voglio fare un video decente Perchè veramente, se vado in negativo, anche con l'arma buggata, io non, c'è, è overpower l'M416 Quindi, cavati dal cazzo Sclerate a parte Proviamo a tirare anche una granata tattica, tipo, là, che secondo me sono Non ci credo, mi ha rimbalzata Chi è che mi sta sparando? Mi stanno sparando in mille, mila Ma cos'è? Eccolo Mi è fuori da qua, eccolo Vediamo, facciamo il giro, facciamo il giro Dietro, 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 stronzo Stronzo, no, 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 avevo finito i colpi, regà, avevo finito i colpi Questo è un fail No, avevo finito i colpi, vabbè, dettagli Piccione, no, è amico, piccione amico È vero che in Battlefield 3 in questa mappa c'erano molto spesso i piccioni che cercano di andarsi a camperare Sulla gru O non si sa dove, cioè, riescono a trovare sempre i posti più oscuri Questo qua ha... Come ha fatto? Come ha fatto a non morire? Ma ho ucciso un altro Cioè, io ho fatto due hitmarker Tattici In questa mappa, regà, la gente si va a camperare nei posti più oscuri Proprio vanno a cercare i buchi più oscuri della mappa per riuscire a camperare Io addirittura avevo trovato un posto molto figo per camperare col cecchino Che era ovvero lì Che... no, vabbè Mentre che vi faccio vedere, ovviamente, mi uccidono In quel posto lì, ragazzi, sembra che tu sia fuori dalla mappa Invece no Perché c'è un punticino che tu ci riesci ad arrivare praticamente per un millimetro Non so se l'abbiano fixato, quel bug Però tu ti metti lì e uccidi tutti Poi, ovviamente, cioè, la gente ti vede, eh Non è che... la gente non è stupida e ti spara, però È un bel posticino per... per uccidere le persone Ora, ragazzi, c'è un problema Uh, il cecchino lì Eh, vabbè, ragazzi, sono ovunque Granata Non lo so, piovono granate Piovono granate ovunque Piovono granate everywhere Io non lo so Vabbè Quello è morto E mi uccido una granata Ah, sta granata, ma che palle è Piovono granate, va bene L'abbiamo appena appurato In questo gioco piovono granate Noi adesso andiamo qui in mezzo Cerchiamo di non farci uccidere un'altra granata Ma porca puttana Alleate ucciso Ma io non lo so Lo stavo dicendo L'ho vista... l'ho vista cadere davanti Mi ha ucciso un mio alleato Eccolo, eccolo, eccolo E invece no E invece no Adesso mi cavo la felpa Perché, ragazzi, sto già sudando Sto già sudando Adesso mi impegno E facciamo la strage Adesso mi impegno Parlo poco Tipo... no, cazzo, sono caduto Quello era già morto Ancuro, se però me li rubate da davanti Ok Tipo quello potremmo... Non è morto Ok Tu vai a rianimare il tuo amico Che io ti uccido Spera di servizio A me 416 intanto Abbiamo sbroccato anche un merino No, 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 no Scusa, tieni Tieni, ti do il kit medico Tieni, tieni, tieni Non volevo Giuro che non volevo Allora qua c'è... Allora qua c'è un mio amico morto Scappa, scappa Che adesso mi stanno facendo... Mi faranno fuori Qui piovono granate Ragazzi Veramente Cioè io non so più cosa fare Con tutte queste granate Allora qua ci dovrebbero essere Dei nemici Eccoli là sopra Fuga tattica Adesso mi uccidono Mentre che arrivo qua E invece no E poi ce l'ho davanti E non lo vedo Perché io quando non vedo i nemici Ce li ho sempre davanti Non dietro Non di fianco Davanti Ciò vuol dire essere Veramente ciechi Eccolo Pensaci te a ucciderlo Pensaci te Grandissimo Doppia Questa si è fatta la doppia Veramente siamo dei pro Quanto sto facendo raga Sto facendo cagare 8-12 No basta Adesso recupero Pensavo di fare un video di 10 minuti Siamo già a 6 Quindi adesso abbiamo 4 minuti Per recuperare E' un 6 minuti che parlo Qua ce n'è uno Qua ce n'è uno Prefire L'ho ucciso E mi ha ucciso anche lui Scambio di bar No Mi ha ucciso un altro Mi ha ucciso un altro Marcello123456 Bel nickname Mi piace Un nickname Marcello123456 Vabbè La fantasia Devo dire che non è dalla sua Basta Vi prego Vi prego Vi scongiuro Le granate Poi vi arrivano i nemici Da dietro Io non lo so Basta Eccolo L'ho ucciso Cerchiamo di No 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 Scusa 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 Scarsavo Eccolo 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 Grandissimo Basta cecchini Basta cecchini Raga Io prima ci ho provato a fare un video Col cecchino Ma non ci sono riuscito Faccio veramente Cagarissimo Allora Ma se tipo Ma se tipo io Spegnessi il gioco Perché tanto faccio cagare Quindi Se io spengo il gioco È la stessa cosa Cioè posso anche andarmene adesso Possiamo concludere il video qua Che tanto Beh sicuramente è andato meglio Del video col cecchino Perché prima Avevo fatto due kill Tipo tre massimo Avevo fatto veramente cagare Comunque ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate di questi Genere Di video Aspettate che uccido questo Ok No Non ho neanche ucciso Vabbè Fatemi sapere cosa ne pensate di questi Genere di video vecchi Perché io veramente Quando abbiamo creato il canale C'era questo gioco Che andava molto di moda E ci ho fatto veramente Un sacco sacco di gameplay E E vi piacevano anche una volta Una volta vi piacevano anche Quindi niente ragazzi Fatemi sapere qua sotto nei commentini Se magari vi piacerebbero altri gameplay Fatti di questo genere Su Nel canale di Norshare O comunque su Battlefield 3 In generale O comunque anche Su Battlefield 4 Cioè non dobbiamo un po' farlo Su Battlefield 3 Ormai come avete visto Ci sono dato a mucchio Sto parlando Non sto più cagando al gioco Io sto continuando Per farvi vedere Che sto giocando Ma ormai non sono più neanche concentrato Quindi niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciatemi un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Porca troia Scappa Cos'è sto casino Guardate che c'erano due qua Tattici Una kill Finiamo il video in bellezza No Ok Rianimiamo Ricarica Ricarica tutto Grandissimo ragazzi Vi ha finito il video in bellezza Aspettate che Facciamo anche fuori questo E invece si E invece si No vabbè niente ragazzi Ci ho provato Ho fatto 3 kill 4 forse Niente ragazzi Questo video conclude qua Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi